La rilascita dell'Udinese è passata anche per la buona vena realizzativa dei suoi principali bomber, Terro e Zapata, che inseguono i loro rispettivi record stagionali di reti. Il grande impatto di Gigi Denneri, come ormai li saputo, è anche passato per l'instaurazione di qualche tormentone friulano da sgarfare ad indiarsi, il tecnico ci ha spiegato tutto. Vittoria netta a quella del Pordenone contro la Reggiana, 2-0 al Bottecchia e vetta vicina con il Venezia che agguanta nel frattempo al primo posto il Bassano, fermato dall'Albino Leffe. Sarà un palazzetto strapieno quello di Civitale per la gara tra la GSA e la Virtus Bologna, si torna a respirare grande basket e conta vincere a tutti i costi, dice l'Ardo. Buonasera amici appassionati bianconeri di Udinese TV, benvenuti all'appuntamento con l'informazione sportiva targata Audi News. Sosta che entra nel vivo, entra nel pieno del suo svolgimento con la squadra che è proprio a riposo sia oggi che domani. Tornerà a lavorare lunedì per affrontare poi al meglio quella che sarà la sfida contro il Napoli di sabato alle ore 18. Ed è ovviamente come ogni sosta che si rispetti momento di tracciare dei bilanci, lo abbiamo fatto lungo tutta questa settimana. Oggi il nostro occhio si posa su Theroux e Zapata che hanno cominciato molto bene e sono quindi a metà dell'opera. Chi ben comincia è a metà dell'opera, detto che calza a pennello anche per i terminali offensivi dell'Udinese. Sì, soprattutto se l'opera è intesa come il raggiungimento del proprio career high, come lo chiamano negli Stati Uniti, ovvero il record personale di reti segnate in campionato. Un'opera che per un attacco di certo non florido, quello delle ultime udinesi viste in Serie A, non sembrava essere così facile da compiere, vero. Ma con l'Udinese, versione sgarfatrice come quella di Gigi Del Neri, non lo è poi così tanto. Perché l'Udinese gioca, crea, piace, ma soprattutto segna e gli attaccanti ne vanno a nozze. Alla metà dell'opera ci siamo e il campionato è ancora poco meno di un terzo del suo svolgimento. Non serve istituire il mancante Nobel per la matematica per capire che la strada è assolutamente giusta. 14 giorni tondi, 4 partite per segnare 5 gol. Questi numeri di Siriltero sbloccatosi così. Gelato al cucchiaio di Siriltero, 1-0, la freddezza del bomber francese che si sblocca al nono minuto, Udinese in vantaggio. E poi capace di continuare nella stessa partita con il Pescara, prima di punire in rapida successione Palermo con grande stop e tiro, Torino con un chirurgico colpo di testa e Genoa con una sassata perfetta, guarda un po', sempre su assist di Silvan Widmer. Niente male per un attaccante che ha nella testa l'obiettivo di fare tanti assist, ma che non disdegna la via del gol. Per un attaccante che ha fissato a 11 il suo record di reti in Serie A, stabilito una volta con il Chievo Verona, e poi di nuovo l'anno scorso con l'Udinese con un gol meraviglioso a San Siro. Un attaccante che viaggia nelle ultime gare a un ritmo migliore di Icardi e di tutti gli altri, pari soltanto a tre mostri sacri capitolini come Dzeko, Salah e Ciro Immobile, gente che si contenderà il titolo di capocannoniere fino alla fine. Arrivare a 12 sembra facile e Terro è pronto a provarci, dopo aver fatto ricredere migliaia di fantallenatori in soli due settimane. A metà strada del suo bottino ci è già arrivato invece Zafata, 4 per un pizzico di fretta in più, non è a 5, ma anche qui l'impressione che si possa riuscire nell'obiettivo. 8 è una soglia bassa dovuta al suo scarso impiego, prima per poco spazio a Napoli, poi per infortunio a Udine, ma da questa incornata. Zafata! Si sblocca ancora alla quarta giornata! È iniziato il percorso che si vuole concludere con la doppia cifra, d'altronde si sa chi ben comincia è a metà dell'opera. Terro e Zapata in coppia, abbraccetto magari a infrangere questi record, sono stati entrambi ovviamente protagonisti della serata di gala dell'aperitivo in Clubhouse, di cui vi abbiamo dato ampia testimonianza. Sentiamo cosa ha detto in un breve straccio, proprio si rilterò del momento magico che sta vivendo. La squadra ovviamente, i risultati sono arrivati, sono arrivati questi 8 punti in 4 partite che sono stati importantissimi, abbiamo visto un deciso cambio anche di mentalità, di voglia, è un bel momento. Sì, no, è un bel momento, siamo bene fisicamente, lavoriamo tanto e no, penso che tutta la squadra ultimamente si diverte e qua abbiamo la fortuna in Friuli che se diamo il 100% la gente è sempre contenta che vinciamo o che perdiamo, quindi per noi è piuttosto facile renderli felici. Parla, parla, no, volevo... Conciso, Cyril Theroux che non si è lasciato andare a tante parole, chi invece ha parlato sicuramente molto di più del momento magico dell'Udinese che si è rialzata notevolmente in classifica è stato il tecnico Gigi Delneri che alla fine ovviamente si è concesso anche alla spiegazione di quelli che sono i suoi ormai ben noti, di Tormentoni Friulani. La società mette a disposizione delle organizzazioni, delle aziende, tutto quello che serve per poter avere uno sviluppo importante. Io penso che queste cose siano legate e dichiaro che noi facciamo questo perché abbiamo una società dietro importante. Io sembra che non serve solo quello, no? Sì. Quello è la base per poter ottenere risultati, cioè la volontà e la perseveranza, la voglia di fare, la voglia di insistere in quello che tu, anche se sbagli, perché io penso che in una struttura di lavoro ci sia un'idea e non bisogna mai perderla anche se le cose vanno male. Dobbiamo continuare a migliorarla, no? Quella è la via, secondo me, importante. Allora, io dico che la base principale è insistere, avere la qualità, la forza, la benegrazione e andare a trovare tutte le energie che possono darti per poter ottenere. Poi ci sono le qualità dei giocatori, ci sono la psicologia, nel calcio e tante cose, però la base importante, penso che tutti possiamo mettere in campo, è quello della volontà e della voglia. Lo scarfà, cioè nel senso pratico, cioè lo scarfà è la gallina che va nel... Così, che fa così. Sì, anzi con i sappici, anzi con i sappici. Però il problema nel fondo è che la gallina... La gallina positiva. Io ho fatto il cambio tra la gallina e il dindi hat perché l'altro è più grande. e il dindi hat adesso... Sei più grande, Adesso te lo devi spiegare. Te lo spiego io dopo, è il tacchino. Ma però basta, però... Però basta, adesso c'è il continuo, poi... Però è un discorso, quello che... Quindi una tregua di tormentoni da parte di Gigi Del Neri che ovviamente avendo indicato il tacchino perché è più grande della gallina. Ci siamo fatti una bella risata anche in compagnia del mister Gigi Del Neri, però domani c'è una palla a due importantissima per quanto riguarda il basket perché arriva a Civitale una certa Virtus Bologna. Ne parliamo insieme a Davide Mikalic. Buonasera Davide. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Noi siamo sempre sulla pagina Facebook della APU, siamo meno 300, leggo l'ultimo bollettino di biglietti venduti per il sold out. Ci dai qualche aggiornamento ulteriore perché stanno davvero volando via i biglietti. Abbiamo venduto qualche biglietto anche oggi pomeriggio con le biglietterie online quindi io invito i tifosi che domani magari volessero gli ultimi ritardatari a muoversi nei vari punti vendita di vaticchetto piuttosto che andare e arrivare domani presto con l'affetto perché veramente è una cazza al biglietto e mi dispecerà chi non riuscirà ad entrare però insomma abbiamo cercato di agevolare il più possibile la tifoseria con la pre-vendita tutta la settimana abbiamo avuto un risultato clamoroso ne parlavo ieri con il presidente noi un anno fa facciamo l'incasso in tutta la stagione di quello che abbiamo incassato domani a partita contro la Virtus tanto per rendere l'idea di che scalata abbiamo fatto e non abbiamo mai fatto tanto pubblico neanche ai tempi della Snyder non mi ricordo una roba del genere neanche ai tempi della Snyder che ho vissuto in prima persona per quanto riguarda la pre-vendita quindi chiaro che c'è tanta attesa chiaro che la squadra la società sente tantissimo l'affetto della tifoseria e domani io mi auguro c'è una grandissima giornata di palacanesto per tutti domani ci sarà una grande bolgia personalmente guardavo Sesca Mosca Real Madrid e lì il tifo non decolla mai invece domani io mi aspetto un palazzetto di Cividale assolutamente caldissimo perché lo dicevamo non ce ne vogliano Chieti Montegranaro altre squadre però domani si respira di grande basket c'è poco da fare si respira di grande basket hai ragione poi arrivano gruppi organizzati da Bologna quindi c'è la tifo anche per loro sono annunciati più di cento tifosi della curva di Bologna i nostri sono caldissimi preparati a spingere la squadra poi sai Alan Ray che è stato un grande ex per loro era capitano da Virtus loro lo aspettano con il dento avvelenato ci sono tantissime motivazioni Lino Lardo e lo stesso Coccarolo insomma sono sono tantissime motivazioni che fanno sì che la partita domani sia una partita speciale noi la sentiamo ma io sono convinto che sarà una partita stupenda sono convinto che sarà un grande spettacolo per la nostra città e poi che vinca il migliore io poi mi auguro che migliori siamo noi ovviamente questo è quello che sperano un po' tutti da casa ricordiamo tra l'altro che la gara sarà trasmessa da Sky Sport ma noi ci collegheremo all'interno di Sport Life per aggiornarvi come sono le condizioni della squadra cerco di chiederti in ultima battuta perché sappiamo che ci sono molti acciaccati c'è ragione poi intanto pensa che noi stiamo qui che stiamo dicendo che forse battiamo la Virtus che siamo convinti di battere renditi conto di cosa stiamo parlando cioè fino un anno fa eravamo Ordi Nuovi e Costa Volpino con il rispetto di cui parlavi tu prima e quindi già cerchiamo di godersi questo spettacolo e poi sì cerchiamo di avere la squadra al top è chiaro che Alan Ray ha qualche fastidio ha preso un Lopez in allenamento ieri ma dovrebbe comunque essere della partita senza fastidi poi c'è il ballottaggio sotto Canessa perché né Manu Evanuso né Joel sono al top anche Cuccarolo non sta benissimo domani Lino sceglierà domattina in rifinitura chi lasciare fuori poi sai poi quando c'è il fischio di inizio la palla 2 si pronti via parte la prima sirena si gioca si dimentica tutto chiaro che la squadra purtroppo anche Castello è un fastidio una caviglia non arriva al top ma anche loro mi dicono hanno qualche fastidio quindi credo che poi alla fine i valori sotto questo aspetto saranno livellati grazie mille Davide e appuntamento quindi a domani sera 19.30 ciao grazie a tutti ciao grazie Davide palla 2 19.30 ma vi ricordo ancora una volta perché ne vale la pena leggo proprio dalla pagina Facebook della GSA di poter sfruttare anche domani la possibilità con il circuito Viva Ticket di acquistare il biglietto oppure le biglietterie dell'impianto sportivo di via Perusini che saranno operative fino o meglio dalle ore 18 fino alla palla 2 quindi sarà un'ora e mezza particolarmente calda e vi invitiamo a riempire il Palacio Vitale mancano davvero pochi posti non standoci l'Udinese che gioca direi di dare ampio spazio alla GSA e andare a vedere una grandissima partita ci trasferiamo su un'altra nostra grande esclusiva il calcio direttantistico perché oggi abbiamo mostrato le immagini di San Vitesse Spal Cordovado partita finita 1-0 riviviamo la sintesi del match inizia in questo momento San Vitesse Spalers attenzione piccolo interviene Sediverz si accentra si accentra e salta in un paio di uomini anche Luca Bianco pallone per Maged il filtrante verso Rinaldi il cross del numero 2 troppo sul portiere incerto Argenton prova ad approfittarne Rinaldi cambia gioco bella idea a cercare scusate Battel Francesco Trimiterale sinistro del numero 11 qui c'è stato il duplice fischio della signora Zonta che manda le squadre negli spogliatoi San Vitesse 0 Spal Cordovado 0 in attacco ancora da San Vitesse sulla testa di Rinaldi alto lancio verso Francescutto 1 contro 1 Francescutto rientra sul sinistro la piazza e piccolo intervento plastico Zuliani pronto alle incursioni sul fronte sinistro dell'attacco bianco-rosso Sedivez porta il spasso pallone fa partire un cross al centro direttamente per la testa di Maged che si mangia uno di quei gol che probabilmente avrei segnato anch'io occhio a Francescutto lasciato inspiegabilmente libero Sedivez gran controllo avanza pallapiede numero 10 Sedivez 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 porta spazio tutta la difesa un paio di sterzate pallone tra i piedi di Asfeno ma ormai la Spal si è piazzata e Maged su primo pallo Alcava in corsa in crocia ma la palla non ne vuole sapere di entrare parte Paessan sul primo palo libera Alcava e poi la battuta di Infanti con la Francescutto libera il sinistro e piccolo in presa bassa da sicurezza al reparto alletrato Sedivez deve portarsi la palla sul sinistro lo sanno bene i giocatori della San Vitesse che adesso della Spal che adesso si vedono fischiare un calcio di punizione ci sarebbe anche Zuccon sulla destra ma almeno le penso voglia andare non corsa al centro no invece è un raso terra verso Sedivez che è proprio nel finale di destro infila la porta infila Argenton e dunque regala il gol da tre punti vittoria nel finale quindi della San Vitesse noi ci spostiamo qualche categoria più in su prima di salutarci per vedere velocemente i risultati della Lega Pro Girone B giornata che si sta concludendo si sta ancora giocando a noi interessa soprattutto il 2-0 del Pordenone sulla Reggiana così come anche il 2-0 del Venezia contro Suttirol per una classifica che vede una vetta totalmente riaccesa proprio con il Venezia che ha guantato il Bassano a 26 punti in segue il Pordenone con 24 cambierà poco in vetta soltanto il Parma infatti dovrà giocare domani la partita contro la Maceratese era questa l'ultima notizia del nostro DG Sportivo a me non resta che salutarvi e lasciare la linea ad Angela Caino per tutto il resto delle notizie di giornata è morto a Udine l'ex sindaco Pietro Zanfagnini aveva 84 anni esponente del PSI avvocato resse le redini della città dal 90 al 93 faccia a faccia tra i sindaci del medio corso del tagliamento e la regione ribadito il no alla traversata di Pinzano si interverrà solo nella Tisanese dal 2 novembre ad oggi il pronto soccorso odontoiatrico attivato in ospedale a Udine ha già gestito 28 ugenze rivolto a tutti accesso diretto saranno accese sabato prossimo le luci di Natale nelle vie del centro di Udine per l'occasione sarà promosso un pomeriggio evento Buonasera anche dalla redazione cronaca di Udine News lo avete sentito nei nostri titoli in apertura la notizia della scomparsa a Udine all'età di 84 anni dell'ex sindaco della città anche ex assessore regionale Pietro Zanfagnini lo vediamo in questa foto pubblicata a corredo della notizia da Udine Today avvocato ed esponente di spicco del partito socialista era stato anche segretario regionale del PSI Zanfagnini divenne primo cittadino di Udine nel 1990 sostenuto oltre che dal partito socialista anche dalla DC dal PSD e dal partito liberale fu il primo sindaco non democristiano del capoluogo frullano dopo il 1948 è stato un punto di riferimento etico per tutti i cittadini impegnati a servizio della città ha sottolineato il sindaco furio Onsel dimostrando sempre grandissima coerenza e rigore morale per me personalmente per molti altri che trovavano nelle sue parole un riferimento forte di impegno civile è stato fonte di ispirazione e di insegnamento la presidente della regione Deborah Serracchiani ha sottolineato il fatto che con Zanfagnini scompare una delle migliori espressioni della vita politica regionale e del socialismo friulano un gentiluomo dai modi cortesi nei rapporti personali e politici ha detto Serracchiani con un profondo rispetto delle istituzioni continuiamo il nostro Tg dopo la vicenda della donna musulmana di San Vito al Tagliamento che è stata multata perché aveva rifiutato di togliersi il velo e rendere quindi visibile il volto durante una seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi a San Vito al Tagliamento il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ha depositato una proposta di legge nazionale per vietare di indossare nei luoghi pubblici per ragioni di sicurezza nazionale non solo caschi come già previsto dalla legge ma anche indumenti che possano celare il volto e pertanto l'identità delle persone lo stesso gruppo ha presentato una mozione in Consiglio regionale che prevede il divieto di accesso a chi cela il volto in tutti gli uffici regionali e nelle relative pertinenze Parliamo della sicurezza del fiume Tagliamento ora c'è stato un incontro tra i sindaci dei comuni del medio corso del fiume e la regione l'assessore all'ambiente Saravito ha assicurato che con i 40 milioni a disposizione della regione saranno risistemati gli argini nella parte bassa del fiume non sarà realizzata invece alcuna traversa a Pinzano sentiamo Davide Zanirato nessuna traversa o cassa di espansione i 40 milioni di euro che la regione Friuli-Venezia-Giulia ha da tempo in cassa per la messa in sicurezza del fiume Tagliamento saranno destinate ad un programma di interventi immediatamente cantierabili per il basso corso a salvaguardia dei centri abitati friulani dalle criticità idrauliche le rassicurazioni sono giunte dall'assessore regionale all'ambiente Saravito che a Udine ha incontrato i sindaci di Forgaria nel Friuli Ragogna San Daniele Dignano Spilimbergo Pinzano e Vito Dasio gli interventi prioritari riguarderanno la messa in sicurezza degli argini di entrambe le sponde del basso corso con la realizzazione di diaframmature e di opere di rinforzo per dare soluzione a significative criticità e con il rialzo del ponte stradale alla Tisana che costituisce un ostacolo al materiale flottante trasportato dalle piene e potrebbe causare vasti e diffusi allagamenti nei territori tra Friuli Venezia Giulia e Veneto questi interventi sono il risultato del dialogo avviato dalla regione con il ministero dell'ambiente l'autorità di Bacino di Venezia e l'unità di missione contro il rischio idrogeologico di Roma grazie al quale ha rilevato l'assessore è stata individuata la soluzione ad una vicenda che si trascinava da troppi anni l'incontro con i sindaci era stato richiesto dagli stessi primi cittadini dopo che a seguito delle celebrazioni per i 50 anni dall'alluvione di Latisana aveva ripreso quota il progetto di un ponte traversa una sorta di mini diga con paratie mobili da realizzare a Pinzano al fine di contenere eventuali piene del fiume in modo da evitare esondazioni poi nella bassa friulana progetto però che lanciato negli anni 70 è sempre stato avversato dalle popolazioni locali e la procura di Udine ha disposto l'autopsia da svolgere nella forma di incidente probatorio sul corpo di un uomo di 56 anni di Campo Formido deceduto in ospedale a Udine il 4 novembre dopo essere stato sottoposto due giorni prima a un intervento chirurgico programmato di ricostruzione della calotta cranica l'inchiesta è stata avviata su segnalazione della famiglia dell'uomo che ha presentato un esposto per accertare le cause del decesso la procura ha iscritto nel registro degli indagati quale atto dovuto e per consentire la nomina dei propri periti il neurochirurgo e l'anestesista che hanno eseguito l'intervento chirurgico continuiamo con la sanità con il nuovo servizio di pronto soccorso dontoiatrico attivato a inizio mese dalla chirurgia maxillofacciale dell'ospedale di Udine è qui che tutti si possono rivolgere direttamente per problematiche urgenti ai denti e alla bocca vediamo dal 2 novembre scorso ad oggi il pronto soccorso odontoiatrico attivato presso il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine ha gestito già 28 urgenze alcune risolte con una visita e relativa prescrizione farmacologica la maggioranza con prestazioni multiple operative o chirurgiche i tempi relativi alle prestazioni vanno da un minimo di 15 minuti sino a un massimo di 3 ore a rendere note le cifre la direzione ospedaliera il servizio di pronto soccorso odontoiatrico previsto dall'ultima legge regionale di riforma della sanità è organizzato attraverso un ambulatorio ad accesso diretto per la gestione delle urgenze odontostomatologiche attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 mentre il sabato il servizio funziona dalle 9 alle 13 tale ambulatorio è situato presso la piastra ambulatoriale di chirurgia maxillo facciale al pieno terra del padiglione 15 il nuovo ospedale ed è identificato dal numero 1 il trattamento delle urgenze è garantito alla generalità dei cittadini limitatamente alle urgenze infettive o alle sintomatologie dolorose acute per le quali sia indifferibile effettuare il trattamento sia attraverso la medicazione del dente sia con terapia farmacologica si tratta in maggioranza di problematiche di natura infiammatoria o infettiva come pulpiti o ascessi oppure traumatica fratture ed avulsioni dentali il servizio prevede una compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dello stesso cittadino secondo le regole generali del ticket per quanto riguarda la visita odonto stomatologica continuiamo con la cronaca d'aspo per 3-5 anni per due tifosi della triestina che domenica scorsa nello stadio di Brugnera aggredirono e ferirono i carabinieri che si trovavano all'entrata del settore ospiti colpendoli con calci e pugni la decisione è stata presa dal questore di Pordenone nei riguardi di due uomini di 36 e 24 anni entrambi residenti a Trieste saranno anche denunciati alla magistratura per violenza e resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali gli incidenti avvennero in occasione della partita del campionato nazionale dilettanti di serie D tra Tamai e Triestina il tandem inizia a prendere piede anche in Friuli grazie a giovani aziende che pur piccole hanno scelto di abbracciare la sfida con successo stiamo parlando dell'Udine 3D forum promosso da Confartigianato Udine in corso da giovedì e fino a domani a Palazzo di Toppo Wasserman siamo andati a scoprire cosa c'è di nuovo vediamo su questo tavolo ci sono soprattutto dei progetti di didattica per far vedere alle scuole che utilizzando progetti open source quindi che sono gratuiti disponibili sulla rete si può insegnare robotica informatica e via dicendo coinvolgendo di più i ragazzi ci sono vari tipi di robot che si muovono con vari tipi di motori luci da far accendere con i vari controller proprio per insegnare l'informatica e la robotica in maniera più divertente siamo qui col progetto Molbed che si prefigge di creare appunto un modulo di scrittura Braille aggiornabile abbiamo qui presentato un unico modulo e però c'è la possibilità di creare intere stringhe appunto di moduli fino a creare una riga Braille o intere pagine Ciao io sono Henry mi occupo di FPV quindi praticamente si tratta di mini droni equipaggiati con una telecamera che trasmette in tempo reale a un sistema di visualizzazione che consente all'utente di guardare esattamente dove sta volando Luca Nardone con Fartigianato Udine Udine 3D nel vivo tanti espositori tanti ragazzi tanta sete di conoscenza Sì per fortuna sì siamo riusciti anche quest'anno ad attirare un bel numero di persone sia professionisti che stanno partecipando e hanno partecipato ai workshop e alle conferenze ma anche tanti giovani che si avvicinano a queste tecnologie e le stanno scoprendo perché molte delle cose che ci sono qua non si vedono facilmente a Udine Qual è la cosa più singolare più particolare che ha riscosso più successo? Sicuramente anche se è una cosa per i ragazzi però la cosa che piace di più è la sandbox una scatola dove si possono costruire le proprie geografie e un videoproiettore proietta poi i colori come se fosse una mappa questo piace molto ma ci sono i robot ci sono diverse applicazioni professionali che sono veramente interessanti dalle tavolette grafiche a visori per la realtà virtuale un pomeriggio evento concretizza il lavoro di tre mesi per l'installazione delle luci di Natale in centro storico a Udine l'appuntamento è per sabato prossimo per l'accensione appunto delle luminarie natalizie ma anche come detto per tanti altri eventi sentiamo Davide Zanirato Anche quest'anno il gruppo di lavoro del progetto Luci di Natale riuscirà ad offrire lo spettacolo di una Udine illuminata in pieno novembre dopo tre mesi di lavoro Confcommercio e il centro commerciale naturale Udine Idea assieme alla Camera di Commercio Blue Energy Credit Friuli Solari SSM sotto il cappello del comune che si accollerà le spese degli allacciamenti e dell'energia elettrica è stata confermata l'accensione per sabato 19 novembre con un programma che avrà inizio alle 17.30 si partirà con il concerto del The Messenger Mass Choir prima del saluto dell'autorità previsto alle 17.45 alle 18 quindi l'accensione delle luminari in centro storico con una cerimonia sotto la loggia del Lionello con la ripresa dell'esibizione del coro gospel fino alle ore 19 Udine Idea offrirà inoltre sorprese in alcuni negozi aderenti una giornata di festa a cui si aggiungeranno il concorso ideato pure da Udine Idea balconi e vetrine in festa e a partire dall'8 dicembre l'iniziativa camerale in piazza Venerio con le giostre in un'atmosfera natalizia la conferma sottolinea la squadra delle luci di Udine che la sinergia pubblico privato può consentire di concretizzare eventi per il bene della città del visitatore e degli operatori economici questi ultimi sono stati protagonisti di una raccolta quote che pur in una situazione di difficoltà economica non risolta ha superato le cifre dell'anno scorso si sono infatti contate 310 adesioni contro le 225 del 2015 eppure vie e piazze illuminate sono aumentate di 11 unità il gruppo di lavoro che ha unito gli intenti per centrare l'obiettivo invita la cittadinanza ad un'ampia partecipazione suggerendo anche di portare fiaccole o accendini per illuminare ulteriormente piazza Libertà e c'è una nuova area verde attrezzata a Udine in via tagliamento con un investimento di circa 40 mila euro il comune ha realizzato la viabilità interna dell'area per attraversarla da lato a lato e anche posizionato nuovi giochi per bambini e arredi urbani siamo in chiusura diamo ora uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani domenica 13 novembre su tutta la regione avremo cielo in prevalenza nuvoloso sulla fascia alpina maggiore variabilità non si esclude qualche locale breve pioggia o del nevischio sui monti fin sui 500-700 metri specie in serata sulla costa al mattino soffierà a Borino dal pomeriggio Bora moderata gelate notturne anche a Fondovalle sulla zona montana le temperature avremo minime di 2-5 gradi in pianura 6-9 gradi di minima sulla costa e massime che andranno dai 10 ai 12 gradi in pianura 10-13 gradi di massima invece sulla costa ed è tutto per questa edizione del nostro Tg io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito come sempre a rimanere in nostra compagnia buona serata buona serata a tutti per la vostra